ciao a tutti la stagione sta per cominciare come sapete quest'anno debutterò nel mondiale moto e con questi colori bellissimi della squadra corse si c58 e la prima gara sarà proprio qua porti mao 4 chilometri 6 di pista larga 18 metri infinita un chilometro di rettilineo e ormai e porti male di nato famosa per il tratto guidato dove con le superbike con le moto gp si riesce addirittura staccare le ruote io la prima volta che ci ho girato era nel 2008 con una super sport e questo tratto qua è stato incredibile perché mi è mancato il fiato mi è venuto quasi il mal di stomaco dalla decelerazione e accelerazione quindi nella compressione che c'è in questo dosso qua che dire cari amici motociclisti una volta nella vita un giro qua dentro lo dovete fare adesso vi saluto i fatemi mando un bacio ciao a tutti